Bevi Napoli e poi muori. E' questo il titolo shock del settimanale espresso che ha mandato su tutte le fure il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. E' vergognoso che si dica che l'acqua di Napoli si è inquinata, l'articolo è scarno di informazioni e di dati recenti. Così De Magistris durante il Consiglio Comunale è convocato per votare la mozione di sfiducia a Sodano. Un danno di immagine che De Magistris non vuole far passare inosservato. Infatti verrà inoltrata la richiesta di un maxi risarcimento di un miliardo di euro. Soldi, che dice il sindaco, verranno utilizzati per il rilancio della città che ha subito un ulteriore colpo basso. Sono arrabbiato, molto arrabbiato, molto arrabbiato perché ieri mi chiedevano di commentare questa copertina, non l'ho voluto fare perché ho voluto prima leggere l'articolo. Non è una pagina di inchiesta, non è una pagina a mio avviso di complessiva buona informazione. Come ho detto in Consiglio Comunale, io mi farei ammazzare per l'indipendenza della informazione e della magistratura, però di fronte a copertine di questo tipo, bevi Napoli e poi muori, ci sarà una reazione durissima. Oggi approviamo una delibera di giunta con cui chiediamo un miliardo di euro di risarcimento all'Espresso per i danni incalcolabili che sta producendo la città di Napoli, che è la città d'Italia che maggiormente sta crescendo per numeri di turisti, è una pagina inaccettabile che non c'entra per nulla con la libera informazione, ben vengano le inchieste serie, ben vengano l'informazione libera, ben venga il pungolo nei confronti degli amministratori, ma quella pagina, bevi Napoli e poi muori, è una pagina diffamatoria.